Le meravigliose mondine! Grazie! Oli Tizia e le belle donne! Le presentiamo le mondine, perché insomma noi chiamiamo le mondine, ma queste donne, insomma... Presentameli tu, eh! Alla mia sinistra, Barbara! Alla nostra destra, e lei, la nostra... Giulia è ritornata, eh! È stato un ritorno! C'era mancata, c'era mancata, Giulia, e poi ci sei tu, insomma! Io ormai... Dietra miliare, come si suol dire, il perno di questa grande formazione! Sono in mezzo, io! Beh, devo dire, ci regalate sempre delle belle canzoni, che quando si parla di tradizioni, di canzoni armonizzate, le mondine, insomma, spiccano sempre! Grazie! Adesso ce ne hai regalato un'altra molto bella, eh! Molto, molto bella, sì! È un'anteprima, eh! Sì? Questa sera! Sì! Lascio a te la presentazione, però! È un brano che il titolo è già un programma, quindi parla di un messaggio e di una cosa molto importante, di un luogo importante dedicato alla Madonna, e questo è Međugorje! Le mondine!